Tra i calciatori del Bari che non vedono l'ora di rimettere piede in campo dopo il lockdown, un ruolo di primo piano lo occupa Simone Simeri. Dopo i 13 centri decisivi per il ritorno tra i pro nella stagione 2018-2019, il centravanti napoletano ha messo la sua firma ben 10 volte nel campionato del Bari 2019-2020, contribuendo anche con 7 assist alle marcature bianco-rosse, ma il rendimento dell'attaccante classe 1993 fino al 9 marzo, momento del gong del campionato, va oltre la fredda statistica. Il numero 9 napoletano, mai titolare con Cornacchini nella prima parte di stagione, addirittura escluso dai convocati per motivi disciplinari nella trasferta del 22 settembre a Francavilla Fontana, ultima tappa con l'allenatore Marchigiano alla guida del club, si è ripreso i galloni da titolare a suon di rete assist. 10 sono stati i centri, 6 passaggi vincenti in 25 turni di campionato, un cammino da protagonista con una proiezione superiore alle 11 reti con la Juve Stabia 2017-2018, record in carriera tra i professionisti per il 27enne napoletano, una trafila di centri iniziata a fine settembre con la rete decisiva del Viviani contro il Picerno e passata per le doppiette realizzate contro Avellino in trasferta a ottobre e Rieti in casa a gennaio, o i gol distinto contro Potenza e Sicula Leonzio. 10 gemme, Valse, 20 punti in classifica con 6 vittori e 2 pareggi all'attivo. Abile nel dialogo con Antenucci, dei 54 centri bianco-rossi, 30 sono di Simeri e dell'ex Spal, il centravanti ha scalato gerarchie con pazienza e prestazioni fino a comporre il 50% della premiata ditta del gol forgiata nel 4-3-1-2 di Vivarini. A gennaio aveva meritato le attenzioni della Salernitana in Serie B, a febbraio invece il suo entourage aveva avviato il dialogo con la dirigenza del Bari per prolungare un contratto in scadenza nel 2021, progetto solo rinviato a causa dell'emergenza sanitaria, due ottime ragioni per sperare di conquistare la cadetteria in bianco-rosso sul campo, magari passando per play-off ridotti da giocare in estate inoltrata, ma sempre a modo suo segnando da centravanti e lottando come un mediano, il countdown personale di Simeri sui social è già partito da qualche settimana.